Della sua giovinezza non si sa praticamente nulla. Membro dei Mozzi, una delle tre casate che detenevano la contea di Cesana in seno alla Serenissima. Si può ritenerlo originario dell'ampia zona compresa tra la Laguna Veneta e il Bellunese passando. Per il Trevigiano, tutte regioni in cui la sua famiglia è attestata tra il Cinquecento e il Seicento. Forse entrò nella corte degli Asburgo tramite il veneziano Pietro Antonio Bianco. Alla guida della loro cappella musicale tra il 1595 e il 1611. Sappiamo infatti che quest'ultimo si recò spesso nella città natale per assumere nuovi musicisti. Visto la politica controriformistica degli arciduchi che preferivano la componente italiana. Di lui, in ogni caso, si hanno notizie solo a partire dal 1 aprile 1604 quando a Grez fu nominato cappellano e tenore di Ferdinando d'Asburgo. L'anno successivo risulta al seguito della sorella di questi. Costanza, mentre si recava in Polonia per sposare Ressigismondo III, si interessò di commerci. Infatti è datata a 1609 una supplica in cui chiedeva un lasciapassare per esportare carni e cereali. Senza Dazio, nel 1611 fu incaricato da Ferdinando di recare un regalo di nozze, una coppa, al commediografo Paolo Veraldo, mentre nel 1611 accompagnò lo stesso arciduca a Vienna in occasione del matrimonio tra l'imperatore Mattia e Anna del Tirolo. Probabilmente fu elemosiniere per Massimiliano e Ernesto d'Asburgo, fratello di Ferdinando, il quale risulta committente e dedicatario le sue musiche a una doi e tre voci per cantare e sonare con chitaroni, ovvero con altri strumenti di corpo. Venezia, 1613. Nel 1615 furono inseriti due suoi mottetti a due voci e basso continuo. Confis timore tuo, que mad modum desiderate cervus, nel Parnassus musicus Ferdinandaeus, una ricca raccolta musicale contiene, tra gli altri, brani di Claudio Monteverdi curata da Giovanni Battista Bonometti e dedicata all'arciduca. Venezia, 1615. Morto nel 1623, due anni dopo fu concessa una donazione in denaro al fratello Giovanni in riconoscenza dei suoi meriti.